il senso è un senso storico e culturale del posto tanto per incominciare perché non è soltanto il frutto finale che è quello dell'olio extravergine che negli ultimi anni siamo riusciti a valorizzare mentre prima era un olio che veniva utilizzato principalmente per l'accensione delle lanternine quindi un olio di illuminazione già negli anni nel 500 600 presice per esempio un paese storico sotto questo aspetto oggi invece si è raggiunto una qualità anche nell'olio da tavola cioè nel senso nell'extravergine solo che purtroppo adesso negli ultimi 4 5 anni stiamo avendo seri problemi con il discorso xylella che è un batterio che sta attaccando questi a queste varietà di alberi quindi il senso non è soltanto del reddito finale ma anche del in un certo qual modo immaginatevi il salento senza gli alberi di olivo quindi non è soltanto è anche il nostro panorama che verrebbe a cambiare e non è una cosa bella insomma